Allora abbiamo Antonella Katia Augello, giusto? Da Floridia. Sì. E leggo che sei setista truccatrice, sei anche docente, giusto? Sì, sì. Ti sei occupata del total look, quindi sia del trucco che anche dei capelli? Sono stata aiutata, però l'idea era mia. Hai dato indicazione? Sì, sì. Ok. Su di lei volevo fare un progetto un po' trendy e quindi ho fatto un discorso, lei per me è un inverno, quindi mi sono tenuta su questi colori e poi essendo una ragazzina si presentava proprio poco femminile, con le scarpette basse, vabbè se la guardate nella foto si vede con gli occhiali. Molto giovane poi. È giovane, però io volevo un look giovenile che non l'appesantisse, allo stesso tempo che gli dava un po' di femminilità e soprattutto un po' sofisticato. È anche bontone, è carino. Sì, 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 grazie. E poi sui capelli ho lavorato un pochino una treccia un po' spettinata perché appunto è una ragazzina quindi volevo qualcosa di non molto articolato che poi l'ho legato un po' qui per correggere un po' la figura del viso perché è un viso triangolare, nonostante bella e particolare, però questi capelli un po' proprio lunghi, tutti escesi. Il tuo progetto mi convince. Grazie. Perché con quello che sta raccontando sull'immagine globale assolutamente i capelli dico dovevano prendere questa linea e se tu dovessi invece perché ha un grande equilibrio il make-up, c'è maestria e se la stessa quantità di buon gusto la trasferissimo nei capelli per la colorazione, come colorresti tu? Andrei... Più scura, comunque terrei proprio la base sempre scura e le punte, visto che già sono più chiare, li andrei a mantenere con un colore luminoso. Io devo dirti che lei ha un tubino aderentissimo, ha una camicia trasparente, le labbra rosse, è sexy ma non è affatto volgare quindi sei stata molto brava nel dosare tutti questi ingredienti che potevano creare un'immagine un po' troppo. Invece no, c'è molto equilibrio e io sono soddisfatta. Per me va bene così. Grazie mille. Grazie a voi e vi devo dire grazie perché sono molto orgogliosa di essere qui. Grazie a te. Mi fa piacere che sei qui con noi. Ci fa molto piacere.